Ben tornati in diretta a Verona Economia, ricordo che ci potete seguire sul canale 640 del Digitale Terrestre ma anche online sul sito radioavige.com. Torniamo a parlare di imprenditoria, di imprese. C'è stato un risultato importante per Verona pochi giorni fa perché For Green SPASB si è giudicata un premio importante. Andiamo a vedere proprio dal portale Verona Economia l'articolo che abbiamo pubblicato. Impact Award for Green SPASB si aggiudica il primo premio a livello nazionale. La società di servizi, soluzioni e modelli integrati in ambito energia e sostenibilità amministrata dall'imprenditore Vincenzo Scotti ha ricevuto l'ambito riconoscimento a Firenze nella categoria società benefit. Per parlarci di questo risultato prestigioso abbiamo qui in studio questa sera Anna Dalforno, responsabile marketing e comunicazione di For Green. Benvenuta Anna. Grazie Matteo, buonasera a tutti. Allora Anna, iniziamo subito a dare una definizione per il nostro pubblico di società benefit perché è un po' un neologismo in ambito imprenditoriale. Cosa significa essere SPASB? Allora, SP significa società benefit, giustamente come hai detto te, è una nuova forma giuridica ancora non del tutto conosciuta, quindi si sta per evolvere e anche per promuovere se stessa. Società benefit è uno degli scopi principali, è quello di perseguire delle finalità di beneficio comune e operare per questo, quindi è la creazione di valore interno e anche l'esternalizzare questo valore, quindi la capacità di produrre e di portare fuori il beneficio. E portare proprio, avere una ricaduta anche in vari ambiti sul territorio in cui l'impresa chiaramente agisce. Come siete arrivati a Firenze a questa prima edizione di Impact World che ovviamente vi ha consegnato il primo premio assoluto per la categoria società benefit? Esattamente, è un percorso che è iniziato nel 2019 quando Forgreen è diventata società benefit, è un percorso che stiamo facendo appunto da tre anni e questo ci ha permesso di produrre ben due report di impatto, gli integrati danno al report e quindi questo ci ha permesso di arrivare con la valutazione di impatto del 2020 molto strutturata e questo ovviamente ci ha permesso fortunatamente di ricevere il premio conferito venerdì 5 novembre a Firenze. E il premio ce l'abbiamo qui Anna, ce l'abbiamo qui, guardate questa, vediamo la inquadriamo, questa targa, leggiamo anche la motivazione allora che è stata data per questo riconoscimento. Allora, la categoria è società benefit, prima classificata Forgreen per la completezza, la profondità di analisi e la rigorosità nell'attuazione della valutazione di impatto e nella sua presentazione interpretandone al meglio lo scopo e dimostrando attenzione per i dettagli. Caspita, un bel riconoscimento, qui abbiamo anche il report annuale di cui ci parlava appunto prima Anna, lo vediamo proprio qui e ritornando al sito internet dove abbiamo pubblicato la notizia vediamo anche appunto l'amministratore delegato Vincenzo Scotti che qui ritira il premio dall'assessore appunto del comune di Firenze, Cecilia del Re. Ecco, è stata una bella soddisfazione immagino, un po' per tutta l'azienda. Assolutamente, diciamo per tutta appunto a 360 gradi perché il report non è altro che la creazione del valore quindi l'apporto che ogni persona porta appunto all'interno dell'azienda e quindi anche grazie proprio tutto al team di Forgreen abbiamo potuto creare questo report, trascriverlo e poi divulgarlo e tenerlo sempre a disposizione con noi. Tra l'altro Forgreen si è sempre distinta un po' per il suo carattere innovativo, è stata tra le prime in Italia nel 2011 a creare una cooperativa fotovoltaica Energyland e poi ovviamente a crearne e metterne a disposizione dei cittadini altre. Ora si sta parlando anche di comunità energetiche e anche qui Forgreen dentro è attenta a questi cambiamenti di mercato che rivoluzioneranno un po' il futuro. Sì, come giustamente hai detto te nel 2011 è nato Energyland, la prima cooperativa energetica della Lessinia e nel 2011 era una visione molto pioneristica per l'ambiente e per l'attualità e quest'anno abbiamo potuto festeggiare i primi dieci anni della cooperativa energetica e questo ci ha permesso di continuare a migliorare nella costruzione appunto anche di comunità energetica e quindi soluzioni e progetti non solo per le persone fisiche, per le utenze domestiche ma allargato anche alle imprese e alle aziende. Comunità energetica di cui sentiremo chiaramente parlare sempre di più da qui in futuro. Tra l'altro pochi giorni fa eravate a Rimini ad una fiera importante del settore per presentare un progetto tra l'altro che è attivo già da qualche anno ma che sta crescendo assieme e sviluppato assieme a Coldiretti. Esatto, sì sì nel 2018 con Coldiretti Veneto è stata avviata il primo progetto per la costruzione di una comunità agroenergetica tutta italiana, dal 2018 ad oggi ha visto evolvere la sua stessa natura, è un progetto che sta continuando ad alimentarsi e migliorare e infatti anche nel febbraio 2021 ha aderito al progetto anche Coldiretti Puglia, quindi si sta cercando sempre di più di estendere il progetto anche perché sono le realtà stesse che ci credono. Anche perché sta crescendo Anna una sensibilità davvero notevole anche non solo tra gli agricoltori come dicevamo, tra gli imprenditori sul tema della sostenibilità ambientale e anche sulla sostenibilità energetica, vanno di pari passo queste due cose. Sì sì sì, tendenzialmente sì. Ringraziamo allora Anna Dalforno, responsabile marketing e comunicazione di Forgreen SPA SB, abbiamo capito questa sera cosa significa SB, Società Benefit e un plauso davvero ancora a tutta l'azienda per aver raggiunto un risultato prestigioso a livello nazionale. Grazie Anna. Grazie a te, grazie a tutti. Noi adesso lasciamo spazio a un po' di musica, poi il GR e torniamo tra poco. Grazie a te, grazie a tutti.